Oltre i confine, una nuova puntata, una puntata posso dire in diretta, sabato 11 aprile, questa sera nel momento in cui noi siamo in onda, un gruppo sta già svolgendo quello che poi noi vi spiegheremo, però prima di arrivare agli ospiti e alla spiegazione, due minuti veloci veloci, Barzizza, frazione di Gandino, domani arriva la Madonna pellegrina di Fatima, si trattiene, arriva ovviamente la statua, viene portata, si trattiene fino al 19 sempre di questo mese, chi volesse andare per devozione, per curiosità, anche solo per visitare la borgata di Barzizza, ricordo che da domani, 12 aprile fino al 19, c'è la possibilità tutto il giorno di entrare nella parrocchia di Barzizza appunto, quella che noi in Bergamasco, magari inopinatamente, chiamiamo Bargeggia. Allora, tema religioso, tema religioso che segue la Pasqua ma che ha un suo calendario, questa sera infatti, intanto che noi stiamo chiacchierando, qualcuno sta già lavorando, parliamo di Golgotha, la collina della vita, quinta edizione, quinta edizione di una manifestazione che si è voluta, che si è protratta nel tempo, prima faceva parte, diciamo, di quella che era la Crucifixus, nata un po' di anni fa in Valcamonica, oggi Crucifixus sta prendendo degli anni sabbatici di riposo, è subentrato qualcun altro che vuol dare una mano e noi appunto andiamo a conoscere il regista e anche il direttore artistico dalla nuova compagine Desidera, Walter Spelgatti, lo conosciamo, lo abbiamo avuto qui per i mercatini di Natale, è stato lui che ci ha mandato, o ha fatto da tramite per aver qui il mago Tyler, insieme con lui il direttore artistico. Allora cominciamo con te Walter, cinque anni fa la primissima esperienza, voglio fare un po' il cammino ritroso per arrivare, perché Golgotha, la collina della vita, siamo abituati a considerare il calvario, il cranio, il Golgotha come la collina della morte, della morte di nostro Signore Gesù Cristo, per chi crede, per chi non crede, per chi vuole approfondire la cosa. Per molti è considerato il luogo, diciamo, dove i romani fecero una cosa abominevole, però da lì arrivò la redenzione dell'uomo. Ripeto, per chi crede, la cosa poi si sviluppa. Sì, Golgotha nasce appunto ormai cinque anni fa in questo lungo percorso, in questo cammino, che le tre comunità di Fonteno, Solto Collina e Riva di Solto hanno svolto e stanno svolgendo. Il nome dell'iniziativa tutta, che è Golgotha, la collina della vita, come giustamente ricordavi, nasce proprio dal titolo del primo spettacolo, che è andato in scena il primo anno nel 2011. E perché la collina della vita e non la collina della morte? Proprio perché l'idea era quella che questo progetto non fosse un progetto di discordia, di divisione e di campanilismo, ma anzi fosse l'occasione e l'opportunità per le nostre tre comunità, per i nostri tre paesi, di risorgere, di risuscitare. Attraverso questo progetto, che appunto grazie al teatro, grazie ai temi che vengono trattati, che sono quelli del teatro sacro e ancora più nello specifico il teatro sacro passionista, queste comunità possano trovare un'unione per potersi riunire, abbattere i campanilismi e trovare una nuova vita. E questo è il motivo per cui si chiama Golgotha. Ecco, non dimentichiamoci che nei nostri territori, ma posso dire nell'Italia intera e soprattutto nella cattolicissima Spagna, i riti della settimana santa, i riti che precedono e che si antepongono alla Santa Pasqua, sono sempre stati molto forti. Nel sud Italia ci sono delle processioni particolari con dei battuti, con della gente che addirittura si fa del male fisico. Non siamo a livello del cilicio, però siamo a livello proprio del pentimento. Magari nella vita quelle persone lì hanno delle loro mancate, non sta a me giudicare, e si vogliono, diciamo, vogliono espiare. Dalle nostre parti generalmente ci sono delle processioni, magari tipo quella di Vertova con i personaggi, quella di Gromo con la Grande Croce, in Val Camonica so che ce ne sono altre. Solto Collina, cioè la collina intiera, perché non dimentichiamoci che quando si parla di collina dobbiamo considerare Fonteno, Riva di Solto e Solto Collina. Ecco, il compendio della collina, che è un bellissimo posto perché se a Clusone abbiamo 10 gradi, là ne hanno già 13 o 14 perché l'influsso benefico del lago, che è che ne dicano tutti, migliora anche il diciamo il clima. Loro hanno deciso nel 2011 di tentare l'avvertura tutti insieme, un po' come fanno, lo posso sottolineare, un po' come fanno gli spagnoli, soprattutto a Siviglia, che fanno delle grandissime manifestazioni. Là parliamo di migliaia di persone, qui parliamo di alcune centinaia, però loro nel loro piccolo stanno facendo, secondo me, una cosa grande. Ecco, stiamo vedendo alcune immagini di repertorio che penso si rifacciano all'anno scorso. Esatto, sì. L'edizione del 2014 che si è svolta nella piana di Wister a Fonteno. Sì, esatto, ne avevamo già parlato qua insieme a te lo scorso anno. Ecco, qui stiamo infatti rivedendo un po' tutta l'allocazione di allora. Prima di continuare, quanti erano lì tra figuranti, personaggi e collaboratori vari? Qua è stato forse l'anno in cui, nonostante tutte le difficoltà, anche logistiche, perché arrivare nella piana di Wister significa camminare per più di 45 minuti nella valle di Fonteno, i figuranti sono forse stati quelli che il primo anno a parte erano nel maggior numero, erano circa 380. Le persone che su questa grande piana, che la vediamo, sembrano veramente delle formiche, cioè spariscono. Anche il pubblico, che era davvero tanto, perché chi era in piazza Fonteno si è accorto dell'orda di gente che è salita, sembrava sparisse in questo grandissimo campo, in questo catino, come lo chiama Alessandro Bigoni, quando mi cercava di spiegare la location di Fonteno quando c'erano le prime proposte sul perché voler arrivare fino in Wister a fare questa manifestazione, sembrano davvero molto più poche. Quello che secondo me invece è importante dire è che il progetto di quest'anno cambia un po' forma. Oltre a questo cambio di affiliazione in rete, prima eravamo con Crucifixus, quest'anno siamo con Desidera, abbiamo colto l'occasione proprio anche per poter cambiare le modalità di azione e di messaggio che vengono date durante queste serate. Quindi quello che vediamo qui non si ripeterà quest'anno, i figuranti e queste masse di centinaia di persone che si muovono in questi grandissimi ambienti all'aperto, quest'anno saranno un po' ridimensionate. Ecco, non dimentichiamo per chi non fosse al corrente della cosa, che noi stiamo vedendo immagini di repertorio dell'anno scorso che si riferiscono ai primi di maggio, perché la Pasqua era stata abbastanza alta, però tutta la manifestazione è stata fatta a maggio, ecco anche perché vedete molte persone diciamo con le maniche corte o con delle tunichette leggere che uno potrebbe pensare ma come fanno questi, perché si considera, ecco questa è una manifestazione che non segue logicamente o illogicamente il discorso la facciamo la settimana santa. Questa è una manifestazione che segue il suo calendario, il suo tempo, tant'è che noi adesso siamo in onda e qualcuno sta già lavorando in quel di Fonteno, sabato prossimo che è il 18 qualcuno lavorerà in quel di Solto Collina e Dulcis in Fundum il 25 aprile che oltretutto è anche festa nazionale, festa della liberazione, qualcuno lavorerà in quel di Riva di Solto perché quest'anno la cosa si articola in tre punti. Andiamo avanti, come vi siete organizzati per quest'anno? Quest'anno l'idea è stata quella appunto di far riposare un po' le comunità perché quattro anni di lavoro così intenso sono impegnative, sono stati quattro anni molto duri anche se vogliamo sia fisicamente che psicologicamente per tutta la gente della comunità, c'era questa esigenza, lo volevano fare sin dal primo anno quella di alternare con una cadenza diversa l'esperienza di Golgotha come appunto la stiamo vedendo e come sono state le quattro edizioni precedenti. Quest'anno abbiamo deciso di farle riposare creando delle nuove interazioni, nel senso che le comunità continueranno ancora ad agire come questa sera sta accadendo a Fonteno e con questi tre spettacoli che sono tre spettacoli diversi, una trilogia, tre capitoli che noi abbiamo chiamato più che tre capitoli tre campanili perché il tema forte di quest'anno di Golgotha la collina della vita è proprio quello del campanilismo. Quale termine e quale aspetto non potevamo toccare in maniera più corretta e concreta se non quello del campanilismo e quella appunto della divisione tra le comunità. Quello che noi faremo quest'anno è riflettere su questo messaggio, su che cosa significa il campanilismo oggi, vivere e essere campanilisti oggi. Fin dove questo è conservare e essere orgogliosi delle proprie tradizioni e quando invece il campanilismo e i propri campanili diventano la misura dell'odio e della divisione delle nostre comunità. E questo con le tre serate è proprio quello che cercheremo di indagare. Il percorso sarà più un percorso meditativo, di autoriflessione anche se vogliamo, del fare e dell'essere comunità. I tre percorsi che guideranno la performance dei campanili delle tre chiese delle comunità della collina sono stati scritti dal professor Claudio Bernardi dall'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Campanile come fondale delle installazioni luminose, come palcoscenico predominante da cui comunicare forti messaggi di riflessione sul senso del fare comunità. Il paese, la vita, il cielo. Campanile come campanilismo. Allora, professor Claudio Bernardi, nella mia, anzi nella nostra precedente vita televisiva abbiamo avuto il piacere di averlo ospite. Io speravo di poterlo avere qui anche questa sera, ma evidentemente lui starà seguendo dal vivo il lavoro. Di conseguenza non posso, già ho fatto uno sforzo a riuscire a portare qui due, diciamo, dei comprimari che fra un'ora correranno di corsa per vedere come si sta svolgendo la loro kermesse. Il professore come sta innanzitutto? Sta molto bene, ci sta seguendo assiduamente nel lavoro sia con le comunità che, appunto, come giustamente hai detto, per quanto riguarda la costruzione di questi testi e di queste forti tematiche che sono state decise a tavolino e col professor Claudio Bernardi e con me e soprattutto insieme a Gabriele, che è il direttore artistico di Desidera, che ci ha aiutati tantissimo nel poter sviluppare e ampliare un po' questi concetti che per me che là e le comunità le vivo erano un po' difficili, forse perché li sento molto addosso. Allora, io dei tre parroci o dei quattro parroci, diciamo, della comunità ne conosco bene uno che è Don Antonio. So che lui ci ha sempre tenuto e ci ha sempre creduto. Quest'anno, come emesso, è molto caustico o è molto… No, da parte di Don Antonio c'è la piena disponibilità e il pieno appoggio, è sempre un aiuto e una pietra miliare per quanto è l'organizzazione di Golgotha, quindi anche quest'anno ci ha dato veramente un grandissimo aiuto e una grandissima disponibilità nella costruzione sia delle tematiche che anche a livello di comunicazione con le comunità, perché poi questo è importante, diffondere il messaggio e anche di questa novità che, non posso negarlo, ha un po' sconvolto la gente dei nostri paesi che, abituati a questa cadenza annuale, quest'anno hanno visto questo cambiamento, ma questa cosa non l'ho riscontrata solo da parte delle comunità, ma anche su tantissimo. Ormai il pubblico nostro che è molto fedele, anche grazie a voi che ci aiutate sempre nel diffondere questa manifestazione che chiama e chiede perché cambia, cosa cambia, ma cosa ci aspetta. Quindi io rassicuro tutti non cambierà drasticamente il progetto, le comunità ci saranno ancora, saranno ancora dei progetti e delle serate costruite sul territorio e col territorio, quindi non ci sarà nulla di assolutamente sconvolgente, se non quello di mettere un piccolo freno, fare qualche passo indietro che a volte ce n'è bisogno, ma poi torneremo sicuramente ancora in... Io devo fare un mea culpa, ma un grandissimo mea culpa, perché pur peccandomi di conoscere e di essere amico da tanti anni con Don Antonio, solo recentemente, e lo dico, senza... Solo recentemente ho scoperto che oltre a tutte le sue qualità sacerdotali è anche un grande filosofo. Non ce l'ho arrivato. Non avevo mai collegato la sua amicizia col filosofo Cacciari, pensavo fosse una cosa diciamo più venale e invece ho scoperto di avere un amico filosofo senza rendermene conto. Spero poi adesso, quando lo incontro prossimamente, di poter disquisire un attimino. Certamente io non sarò al suo livello, perché Don Antonio è un bel personaggio, soprattutto quando poi invita il mago Silvan, il quale spariglia le carte e ci mette tutti un attimino, diciamo, contro il muro, perché anche quello è un altro personaggio che chi non lo conosce lo dovrebbe conoscere meglio e apprezzare meglio. Noi adesso, prima di dare però l'augusta parola al direttore, ci fermiamo un attimino per la prima pausa pubblicitaria, in modo che così poi nella seconda, quando appunto la faccio parlare, andiamo con una certa continuità. Benissimo. Pausa pubblicitaria, grazie. Seconda parte, sempre oltre i confine, sempre Golgotha, la collina della vita. Adesso conosciamo a fondo il signor Gabriele Allevi, che è il direttore artistico di Desidera, il quale, prima a microfoni spenti, mi ha detto, ma io a Clusone sono già venuto a fare un paio di spettacoli, allora vogliamo presentarci veramente al 100%? Poi vi lascio andare a fare le vostre coreografie. Esatto, perché il tempo è tiranno. Brevemente, Desidera, quest'anno è alla tredicesima edizione, quindi siamo una manifestazione piuttosto collaudata in provincia di Bergamo. Abbiamo esordito in città, prima di questi 13 anni, con un piccolo contenitore che si chiamava e mi sovviene l'eterno, c'era un po' di presunzione, di portare la poesia in teatro, proprio perché crediamo che ci sia molta consanguineità tra la poesia, che è parola detta, parola alta, e parola che necessita di essere proclamata di fronte a un pubblico, e il teatro, appunto. Allora c'era con noi Benvenuto Cuminetti, che insieme a me diede appunto la vita a questa piccola manifestazione. Quando ci ha lasciati, nel 2000, abbiamo preso una pausa di riflessione, poi ci siamo detti che era il caso di far qualcosa dedicato, a lui dedicato. E così abbiamo cominciato a pensare a questo festival dal nome strano, perché è un nome che piace molto, ma tutti mi chiedono ma cosa significa. Sostanzialmente desidera è, diciamo, la radice etimologica della parola desiderio, cioè la mancanza delle stelle, e la radice veniva da quando gli aruspici, che volevano leggere il futuro attraverso la visione delle stelle, attraverso appunto la visione delle stelle, quando le stelle non c'erano, desidera, cioè non si potevano vedere, rimaneva questo desiderio di capire il proprio destino. Allora noi ritenevamo che forse la radice del sentimento religioso dell'uomo consistesse proprio nel desiderio, in tutti i desideri, in qualunque desiderio uno prova, anche al limite quelli più bassi, nascondono una voglia di compimento, che è davvero la radice del sentimento religioso, anche quello più elevato. E allora dicevamo, in questi tempi, da dove si ricomincia, da dove ricominciamo a parlare del cuore dell'uomo e delle sue aspirazioni più profonde, si comincia a partire dalla cosa che tutti provano, ed è appunto il desiderio. E allora abbiamo intitolato in questo modo il Festival di Teatro Sacro dedicato a Benvenuto Cuminetti, che è stato un grande studioso di teatro sacro, di teatro di comunità, e abbiamo cominciato a esplorare non necessariamente testi religiosi, abbiamo cercato di esplorare testi di letteratura, che avessero però, e anche di contemporaneità, e di impegno sociale, che però avessero dentro questa stella, questa piccola stella che guida il desiderio dell'uomo. 13 anni sono passati, facevamo 5-6 spettacoli, adesso ne facciamo 30 in tutta la provincia. Forse la specificità è che non cerchiamo luoghi, non cerchiamo teatri, non palcoscenici, ma crediamo che le comunità abbiano il diritto di vedere spettacoli dal vivo nei luoghi più belli che caratterizzano il loro territorio. Allora cerchiamo spettacoli dal vivo in luoghi speciali, che siano esse ville, castelli, chiese, monasteri, chiostri, parchi. E così abbiamo visitato un po' tutto il territorio bergamasco, abbiamo incontrato tante comunità, e cerchiamo con loro di creare l'evento giusto, al momento giusto. Bellissima la cosa. Da lì è nata la collaborazione di quest'anno con Walter e con tutto quello che può essere il corollario della collina, giusto? Assolutamente, per la verità... Vi siete incontrati, vi siete amati, vi siete odiati? No, no, per la verità io lo seguivo già da tempo, grazie appunto a Claudio Bernardi, che è un carissimo amico, siamo membri della commissione giudicante dei Teatri del Sacro, che è una manifestazione nazionale, e in queste lunghe trasfette tra Milano e Roma, dove ci richiamo per svolgere questo compito, ci segnaliamo le cose più interessanti che vediamo, e mi ricordo cinque anni fa, lui mi disse, ma tu devi conoscere Walter, perché sta facendo una cosa particolare, una esperienza vera di teatro di comunità. Il professore dice sempre che non si può più parlare di teatro, ma si deve parlare di teatri al plurale, le sette vie del teatro, lui dice. Una di queste è il teatro di comunità, ma quello vero, non quello che si dà a piccole pillole alle comunità, ma quello dove la comunità partecipa e diventa protagonista dell'evento. E lui mi diceva, no, Walter è riuscito in questa cosa particolare, che avviene nella tradizione dal Medioevo a oggi, qualche volta, qualche volta avviene perché c'è un'alchimia che deve succedere in un teatro di comunità, c'è un momento particolare in cui la comunità è particolarmente, diciamo, legata affettivamente, c'è qualcuno che riesce a tenere insieme le diverse anime di una comunità, c'è qualcuno che mette, come dire, un tocco artistico che eleva il livello. Allora, questa alchimia non sempre accade, tutti gli elementi magari ci sono, ma l'evento non sboccia. Invece lui mi diceva, guarda che alla collina, alla collina della vita questa cosa è sbocciata, vai su a vederla. E così mi ero recato anche una volta a vederla e mi ero reso conto che effettivamente la comunità, le comunità della collina avevano intrapreso un cammino degno di essere guardato con attenzione. Quest'anno, complice il fatto che Crucifixus si sta prendendo una pausa di riflessione, ci eravamo conosciuti anche per una collaborazione già fatta in passato, gli ha detto, senti, quest'anno è l'anno in cui possiamo unire le forze e fare qualcosa di nuovo, anche perché lui cercava effettivamente una novità rispetto ai quattro anni passati. Cioè la novità quest'anno consiste nel leggere di più e avere meno personaggi, giusto? Mi pare di capire o ho capito male? No, diciamo che la caratteristica di Desidera è una grande affezione ai testi letterari e quindi dà un passo un po' più meditativo, se così possiamo dire, alle serate. Per cui avevamo bisogno di creare dei momenti in cui la partecipazione popolare arrivasse a un punto e fosse condotta in un momento di elevazione e di meditazione. Ci servivano quindi nuovi elementi artistici, nuovi testi da esplorare e da conoscere e su questo noi abbiamo dato il nostro contributo. Quindi le serate, quella di stasera che starà cominciando, saranno caratterizzate da un momento di raccolta della comunità attraverso una fiaccolata, un momento di, come possiamo dire, performance sotto il campanile, di cui ha parlato prima Walter, e un momento in cui si entra in chiesa e lì avviene qualcosa di particolare, che è una meditazione accompagnata dalla musica. Questi tre momenti creano come una sorta di liturgia popolare, perché la scansione sarà identica in tutte e tre le serate, ma tutte e tre le serate vedranno temi diversi, testi diversi e musica diversa. Quindi in teoria uno potrebbe venire, anzi dovrebbe venire a fare tutto il percorso nelle tre serate che si susseguiranno. Teatro, teatro che magari in certi luoghi d'Italia, mi riferisco soprattutto alle province di Reggio, Parma, Modena, erano, parlo dei teatri, diciamo storici, erano magari più sentiti rispetto a noi. Però voglio anche qui ricordare un piccolo particolare. Noi abbiamo un bellissimo, noi, nell'alto piano di Casnigo, vale a dire proprio a Casnigo, c'è un teatrino chiamato quello del Circolo Fratellanza, che è un teatro di un po' di secoli fa, che è stato decentemente e con saggezza restaurato alcuni anni fa, che è un piccolo bijou, perché si capisce che lì, a quella latitudine, già, diciamo, ci tenevano di più al teatro. Magari sarà stato dialettale, sarà stato il teatro amoroso piuttosto che quello licenzioso, però esisteva. Arrivare ad unire tre comunità, anzi, si può dire cinque, perché le parrocchie non sono solo tre comunità, non dimentichiamoci Don Battista ad Esmate e non dimentichiamoci la comunità di Zorzino. Tu attingi da un po' di tutto, qualcuno se la svincola o qualcuno dice ma sì, ci sono anch'io. No, 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 anzi, questa è proprio la grande soddisfazione che se ne ricava da Golgotha. Nessuna comunità, nessun comune, nessuna frazione è fuori dal progetto. Veramente, tutti in una rappresentanza seppur minima partecipano. Come dicevo, l'anno scorso quando c'era questo grande trasporto di persone che partecipavano, ogni comunità aveva la sua particolarità. Da Fonteno arrivavano i falegnami, da Zorzino arrivavano le piedonne, da Riva di Solto arrivavano i lettori, da Solto Collina arrivavano i tecnici, audio e luci, insomma, ognuno aveva la sua rappresentanza. Ma devo dire che nonostante questo, anche quest'anno in cui nonostante il progetto si sia un po' ridimensionato o comunque abbia cambiato forma, tutte le comunità, tutte le parrocchie sono rappresentate dai lettori, che è la parte fondamentale e la parte comunitaria che quest'anno si è mossa in maniera preponderante nel progetto. Nel senso che quest'anno appunto ci sarà questa forma di dialogo tra comunità e professionisti. Io so che a loro non piace essere chiamati professionisti, ma i gruppi musicali che hanno accettato il mio invito a partecipare a questa nuova edizione, alla quinta edizione di Golgotha, secondo me, a mio avviso, li ho seguiti prima di invitarli insieme a Gabriele e ci siamo lungamente consultati per sceglierli nel vasto panorama di realtà musicali che abbiamo nel nostro territorio. e sono dei professionisti. Infatti abbiamo questa sera a Fonteno il coro Voci dalla Rocca che è di Breno, una realtà un po' laterale a quella che è la nostra della collina, però comunque è in Valle Camonica, con cui già avevamo interloquito nelle edizioni di Desidera perché partecipavano assiduamente ai vari spettacoli di Crucifixus perché partecipavano ai vari spettacoli che Crucifixus in Valle Camonica proponeva. Poi abbiamo invece sabato prossimo il 18 a Solto Collina un'altra esperienza che sarà davvero abbastanza estraneante se così possiamo dire che però l'ho voluta lo dico perché ci tengo a dire questa cosa perché rispecchia un po' me che insomma il mio lato artistico studio musica da diversi anni e suono proprio il trombone lo suono anche nella banda della collina e ci sarà questo quartetto di tromboni che nella chiesa di Solto Collina continueranno a dialogare con delle improvvisazioni insieme ai lettori che interpreteranno la passione di Dario Fo noi l'abbiamo chiamata la passione secondo Fo ma è un testo teatrale di tipicissima commedia dell'arte tratto da uno spettacolo che Dario Fo aveva messo in scena negli anni settanta è intitolato primissimi anni settanta intitolato il mistero buffo e ci sarà questa lettura di Maria alla croce e poi invece l'ultimo gruppo musicale di professionisti che interagirà con le comunità della collina e quindi con i lettori della collina è un neonato coro che ha sede a Endine Gaiano e è un po' spero me lo auguro ma credo senza ombra di dubbio lo diventerà il baluardo della musica contemporanea della Valle Cavallina e è il Cavellas Coros un coro di musica polifonica che è diretto da Corrado Patelli che è un musicista di Casazza e la presidentessa invece è la ex direttrice del coro parrocchiale della parrocchia di San Giorgio in Endine Gaiano Bianca Morlini con la quale già abbiamo avuto delle collaborazioni in passato in alcuni spettacoli teatrali ed ha accettato di buon grado di partecipare a quella che anche per loro in fondo è un po' una scommessa un po' una sfida perché non hanno mai avuto modo di partecipare a degli spettacoli teatrali costruiti in questo modo e quindi sono molto contento che tutte e tre queste realtà da quelli di Breno al Masculis Quartet questi quattro ragazzi trombolisti al Cavellas Coros hanno invece deciso di partecipare e sono molto contento di poter portare anche far coinvolgere e far risaltare le eccellenze musicali del nostro territorio Farisoglio Sindaco di Breno l'abbiamo appena avuto ospite a microfoni spenti avevo parlato con lui anche dal coro lo riavremo ospite con qualcun altro penso nelle puntate ottobre novembre perché c'è ancora tanto da dire anche lì il coro invece di Endine Gaiano per ragioni miei personali io molte volte sono in Endine a lavorare ne ho sentito parlare frequentando poi le case della gente qualcuno mi dice ma c'è mia figlia c'è mio genere e vedo che appunto si sta diciamo introducendo andrò a conoscerli perché a me piace andare a piccare di naso dappertutto un'ultima cosa prima della pausa pubblicitaria voi comunque siete anche fortunati perché avete ancora il re di vivo Cardinal Federico Borromeo quale lettore delle vostre opere e qui ne approfitto per salutare lo posso dire tra virgolette l'amico Alessandro Bigoni che è stato sindaco di Fonteno per due legislature e attualmente è presidente della comunità montana dei laghi Alessandro Bigoni avvocato di di mestiere però sempre un grande collaboratore grande collaboratore con voi grande collaboratore quando c'è la rievocazione in quel di riva di solto non è uno che si tira indietro e che potrebbe benissimo stare a casa diciamo a giocare a domino o a scala 40 seconda pausa pubblicitaria grazie allora eccoci qua la terza parte sempre con Walter e con il suo diciamo alter ego il direttore artistico allora questa sera voi siete qui un po' diciamo frementi perché magari qualcuno però avete anche dei validi collaboratori e collaboratrici nella precedente diciamo puntata televisiva nell'altra serie avevamo avuto qui una delle decoratrici e una delle preparatrici di costumi o roba del genere quest'anno tutta quella gente lì giustamente non c'è perché vi limitate diciamo alla lettura vi limitate tra virgolette alle musiche eccetera pensate che il pubblico risponda ancora così fortemente ce lo stiamo chiedendo domani mattina lo sappiamo quando adesso torneremo in collina capiremo dai parcheggi come sta dando la situazione comunque ci siamo comunque impegnati anche grazie all'aiuto del pubblico già rodato che desidera ha negli anni per diffondere nella maniera più capillare possibile su tutta la provincia questa manifestazione una cosa molto interessante che ci tengo a dirla perché è un orgoglio e per Golgota ma spero lo sia anche per tutta la collina che proprio ieri sera abbiamo inaugurato a Bergamo in città praticamente al quadriportico del sentierone una mostra che raffigura che presenta tre opere che ci sono state regalate date incomodato da un da un artista bresciano il quale per la comunicazione di Golgota 2015 ha abbozzato nella sua maniera a matita come se fossero appunto dei tacquini di viaggio le silhouette dei tre campanili della collina quindi il campanile di Fonteno il campanile di Solto e il campanile di Riva di Solto le tre opere originali le abbiamo messe in esposizione in questa struttura di design all'avanguardia che è stata montata in Bergamo città quindi chiunque si trova in città nei prossimi giorni o nelle prossime settimane può andare a visitare questa piccola esposizione che la struttura si chiama la Domus Bergamo che è proprio intesa come la casa di Bergamo è una struttura aperta che ha un piccolo ristorante e una piccola sala esposizioni e per diversi giorni diverse settimane ci auguriamo questa questa esposizione darà il segno tangibile di Golgota anche nella città e chiunque potrà vedere entrare interagire e con le strutture dei nostri campanili e con il nostro progetto perché poi ci saranno tutte le cartellonistiche che spiegano quello che è Golgota e quindi è un altro piccolo segno di apertura dei confini per poter far conoscere la manifestazione non c'è poi da dimenticare e questo lo dico anche per magari accattivare un po' il pubblico che dice no non vado fino a soltocolina per ascoltare una lettura in chiesa ci saranno anche degli aspetti di non poco conto dal punto di vista scenografico che non mancheranno cioè la cifra stilistica di Golgota che è stupire il pubblico nonostante il progetto si ridimensiona un po' ci sarà poiché per tutte e tre le settimane ogni settimana per ogni campanile questi campanili e qualcuno l'avrà visto chi passando magari in riva al lago o chi passando per Fonteno il campanile di Fonteno è stato completamente illuminato di un viola molto chiaro da lunedì invece si illuminerà il campanile di Solto e da lunedì successivo si illuminerà invece quello di riva di Solto proprio per indicare il fulcro della tematica che sono i campanili perché su questi campanili come giustamente diceva prima Gabriele in questi tre momenti il primo comunitario con questa fiaccolata per le vie del paese il terzo che è quello in chiesa dove si leggono le letture quindi anche qui se piove non preoccupatevi la serata si svolgerà comunque perché finalmente per un anno non dobbiamo stare a guardare le previsioni meteo sperando che non piova ma potremo svolgere gli spettacoli comunque il secondo momento che è quello più forte e più importante che sono queste performance dai campanili ossia ci saranno dei lettori tra cui in una di queste tre serate ma non vi svelo quale ci sarà proprio anche Alessandro Vigoni in cima a una di queste tre torre campanarie a leggere a declamare questi testi ci saranno appunto dei lettori che come se fosse un minareto diffondendo in tutto il paese dalla torre campanaria il messaggio che noi come Golgota come direzione artistica di Golgota e come Claudio Bernardi che ha scritto i testi vogliamo comunicare alla gente quindi anche i più pigri che magari non hanno voglia di uscire di casa per quella notte basterà che si affacceranno alla finestra e poteranno comunque seguire ascoltare lo spettacolo teatrale da casa e quindi questo è proprio l'aspetto molto bello perché ci sarà questo campanile tutto illuminato la gente sotto nella piazza che ascolterà questa performance dalla torre campanaria poi ci saranno dei suoni di campane come è tradizione uso fare in molti paesi della provincia purtroppo da noi in collina la tradizione di suonare le campane con i martelli è andata in disuso non si usa più noi in un certo modo in maniera un po' rivisitata per queste tre notti cerchiamo e cercheremo di rievocare ancora questa antica tradizione e poi ci saranno anche altre sorprese da questi campanili però non possiamo anticipare se posso aggiungere una cosa che mi piace dire è che anche Desidera è una comunità non è una comunità residente in un territorio ma è una comunità che ha imparato a muoversi sul territorio a conoscere nuove persone per cui il nostro pubblico che ci è fedele che ci segue già da molti anni verrà a incontrare la comunità della collina e qui nascerà una comunità cosmopolita questo mi piace molto dal punto di vista dell'effetto sociale del teatro perché il teatro di comunità è interessante perché raduna una certa comunità gli insegna le ragioni di una convivenza però le ragioni di una convivenza non possono essere chiuse in una comunità già qui si allargano alle cinque comunità della collina quest'anno farà un ulteriore passo perché si allargerà la comunità variegata di Desidera che viene da vari luoghi anche da fuori dalla provincia per vivere dei momenti autentici e su questa ultima parola voglio dire un ultimo pensiero perché è vero che quest'anno l'andamento sarà un po' più meditativo anziché partecipativo corale e corale tuttavia non dimentichiamo che la profondità dei testi crea ha una sua la profondità artistica dei testi dico ha una sua forza comunicativa altrimenti non esisterebbe la poesia non esisterebbe l'arte qualsiasi disegno sarebbe uguale a un Picasso o a Giotto invece Picasso e Giotto hanno una loro forza comunicativa che trapassa la cultura e il tempo così io sono convinto che quest'anno l'evento di comunità è diverso ma c'è sarà di caratteristica diversa avrà un andamento diverso sarà magari meno festivo e sarà più interiore ma sicuramente lascerà un segno un segno importante adesso io devo cercare di scoprire gli altarini per la prossima estate allora mi viene in mente un mio concittadino ed anche carissimo amico Mario Giudici panettiere panettiere ricercato in quel di Andy Negagiano non facciamo pubblicità ai panettieri grande amico di un altro filosofo quest'anno come siamo messi dai cinque minuti voglio riuscire a capire arriva o non arriva Cacciari no veramente non ci è ancora dato sapere se avremo Cacciari nella nostra comunità perché tra le varie i vari cambiamenti in atto stiamo cercando di capire come si muoverà solto collina per l'estate 2015 quindi non voglio tenere nascosto nulla ma perché veramente non lo so purtroppo qui stavamo parlando di Golgota però volutamente sono arrivato a questa argomentazione perché l'anno scorso sarà stata la promozione televisiva sarà stata la promozione del quotidiano bergamasco sarà stato tutto un insieme di cose la parrocchiale di solto collina era straboccante anche se la parola non è esatta di gente e io ricordo di aver visto tantissima gente da Clusone Rovetta eccetera cosa che non si verificava negli anni antecedenti vuoi ripeto perché è stata pubblicizzata vuoi perché qualcuno era curioso di capire chi era Cacciari o di vederlo di persona perché sono abituati magari a vederlo più sulla 7 che da altre parti Cacciari la Frugoni non lo sappiamo veramente non lo sappiamo non si sa niente non abbiamo ancora messo sul tavolo non c'è ancora nulla di concreto a riguardo stiamo cercando di capire ecco sia chiaro io non ne le mosino e non voglio le mosinare esclusive per Antenna 2 che è arrivata ricordo dalla metà di dicembre in quella della collina di conseguenza adesso è fruibile al 100% la gente comincia ad abituarsi a vedere a vedere i telegiornali a vedere i vari programmi non certamente solo oltre i confini perché questo è l'ultimo dei miei pensieri però se arriveranno quei personaggi lì e se ci sarà un qualcosa spero non dico di avere una corsia preferenziale ma di avere almeno la possibilità di mandarvi giù un giornalista che possa finalmente riuscire a scambiare 4 parole o magari anche 8 no sicuramente sarà nostra cura farvi giungere notizia questo senza nulla togliere alle emittenti consorelle della Valcamonica che anche loro giustamente curano l'immagine perché siamo un po' ambivalenti arriviamo noi arrivano loro mi sembra anche giusto ne avete bisogno voi ne abbiamo bisogno anche noi ma sì ma tranquillamente ecco anche perché se la cosa succede dovrebbe succedere verso agosto sì se succederà come generalmente sarà verso agosto però non non abbiamo veramente sono onesto non nascondo nulla anzi sarebbe tutto a nostro favore iniziare sin da ora a dirlo ma purtroppo non non sappiamo non sappiamo ancora come come si svolgeranno le iniziative di quest'estate ok il canta tu funziona ancora assolutamente quello sì e sarà ne approfitto perché così diamo qualche informazione dai no no quello assolutamente sarà sabato 28 29 agosto scusate giugno no sabato 27 giugno ci sarà questa Kermes Canora che ormai da anche quella da 10 11 anni non vorrei sbagliarmi si svolge a solto collina dando l'opportunità a praticamente oltre 20 giovani talentuosi cantanti di potersi e mettere in mostra sul palco e farsi e mettersi a confronto con un vasto pubblico perché anche questa è un'altra manifestazione a solto collina grazie agli organizzatori che ormai sta raccogliendo centinaia di persone durante la serata e dà delle opportunità poiché entra in collaborazione con diverse emittenti radiofoniche o dei festival canori di respiro regionale o internazionale quindi i primi tre generalmente hanno l'accesso per queste selezioni di fascia superiore e quindi siamo su quello posso dirtelo che siamo già al lavoro anzi vi dirò di più sulla pagina facebook canta tu se lo cercate se ci fosse magari in ascolto qualche ragazzo o qualche ragazza che si vuole confrontare e mettersi in gioco per questa manifestazione gli organizzatori Maurizio Guizzetti che è stato qui insieme a te e anche insieme a me per i mercatini e poi insieme al Mago Tyler che lui è un po' il deus ex machina di tutte queste manifestazioni più ludiche della collina se vogliamo sarà ben contento di potervi dare tutte le informazioni necessarie per partecipare noi abbiamo avuto anche l'onore di avere quella ragazza che ha cantato meravigliosamente bene e che se non erro è stata proprio una di quelle che è passata alle passate edizioni è arrivata sul podio ora non ricordo a che a che in classifica a che livello era arrivata però sì è stata una delle vincitrici delle passate edizioni del canta tu e adesso sta tra l'altro so me lo diceva Maurizio la scorsa settimana sta partecipando a diversi concorsi e sta raggiungendo veramente dei buonissimi Nabila Nabila Castellani si chiamava e si chiama si chiama e sta raggiungendo dei bellissimi e dei buonissimi risultati e mi auguro che parteciperà ma sono quasi sicuro al canta tu anche quest'anno di modo che si possa mettere a confronto ancora con questa col pubblico e con altri cantanti che fa sempre bene allora ritorniamo a Golgota siete lì che fremete fra 5 minuti vi lascio andare mezz'ora siete in collina se non vi incidentate prima vi auguro di no saremo caute ecco e arrivate a vedere com'è andata a finire la prima diciamo puntata noi siamo in onda proprio questa sera perciò chi ci sta guardando ovviamente non può correre adesso però il 18 tranquillamente con molta calma può arrivare alla pieve di Soltocollina sì la partenza perché c'è questa fiaccolata sarà da piazza San Rocco ok allora nella parte bassa di Soltocollina dove c'è la chiesetta la chiesetta di San Rocco poi fuori oltre a San Rocco c'è anche Sant'Antonio comandisnoter Sant'Antonio del Purcell Sant'Antonio del Campanel che è Sant'Antonio diciamo il protettore degli animali quello del 17 di Gennaio non l'altro da Padova che poi non era da Padova neanche lui perché era portoghese ma l'ho superta anche Kel da lì poi la fiaccolata ovviamente verso la parrocchiale assolutamente la parrocchiale diciamo la conclusione il clou della manifestazione che è il sentire l'ascoltare il partecipare alla lettura esatto sì ecco sì 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 in quel di Fontena il 25 aprile no Riva di Solta eh pardon in quel di Riva di Solta il 25 aprile ci sarà invece diciamo alle 20 sempre il ritrovo questa volta sarà nella nel giardino della Doana che è la allora piazza rossa per chi magari non fosse così a conoscenza dei cambiamenti dell'amministrazione sai che Norma Polini l'aveva rinaugurata riallestendola completamente e hanno dato questo nome di giardino della Doana e so che il nuovo sindaco la Nadia Carara ci tiene particolarmente che venga riconosciuto questo nome tra l'altro Nadia sarà anzi è a leggere questa sera a Fonteno sta leggendo quindi abbiamo molto bello anche questo perché tutti i sindaci tutte le rappresentanze delle amministrazioni di Riva di Fonteno sono tra i lettori maggioranza e minoranza tutte 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 assolutamente e quindi a Riva invece sarà dal giardino della Doana tutto il lungolago con questa fiaccolata per poi arrivare alla parrocchiale di San Nicola Vescovo dove ci sarà il terzo campanile e quindi la riflessione la meditazione teatrale all'interno della chiesa col Cavella Scoros e invece quest'altra passione secondo Peghi ecco allora per i nostri teleascoltatori questa sera ormai è andata chi c'è c'è chi non c'è vabbè però 18 e 25 segnatevelo non sapete cosa fare volete andare a curiosare volete approfondire da Clusone da Rovetta da Breno o da Fonteno potete scendere in qualsiasi loro sono lì che vi aspettano non la vi cercano cercheranno però di essere completi come lo sono stati negli anni scorsi io ricordo la conclusione al Bogn quella mi è rimasta diciamo particolarmente qui che è stata quella di due edizioni fa a me non resta non resta scusate non resta o non rimane che salutare Walter e il suo alter ego come l'ho chiamato prima perché ancora una volta ci siamo messi d'accordo in 4 e 4 e 8 e non dico l'abbiamo tirati insieme perché bisognava farla anche per pubblicizzare la cosa per cui siamo qui grazie ancora grazie a tutti e due grazie a te grazie a te grazie a te gli spettatori vi aspettiamo